Ciao a tutti, come promesso vi porto il Trade Binder e poi iniziamo. Le cost sono, Orsidomone, Drago Rosso Assalto, Cavaliere, Drago, Drago Equist, Berserker Rettame Ultimate, TG Camino, Labarda Ultimate, Mago di Arcanite, Faccio il Tuono, Le Le Nebbie, Drago Tridente, Drago Rosa Nera, Guerrieri della Strada, Intico Drago Rotato, Stardust, Stardust, 3 di questi qua, che boh, tranquillamente, 2 Guerrieri Rettano, Drago Nova Rossa, 2 Berserker, Luce Finale, Dark and Dragon, Drago Schildock, XX Cyberbottoms, 2 Turboriore, Arcidemone, Minotroni dei Pensieri, Drago Stella Calente, Questi due, questi due, vabbè, non dico i nomi, Ziman, Stelerno e Stoys, pure questi qua, che sono un po' di raro, un po' di come, qua Aquila, Fritzer, Garn, Valkyrius, 2 Guerrieri, 2 Distruttori, questi qua, Tricorno, Mente Suprema, un po' di Luce, Alleluia, Salvatore, Manoselletto della Giustizia, Arcevattami, qua un po' di Fusione, questo è Ultimate, allora, dico la realtà, Secret, Ultimate, Ultra, Super, Secret, Ultimate, Super, Super, Common, 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 Ultimate, Ultimate, Ra, 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 Super, Ultra, Ultimate, Avert image, Solene, Cyber Orko, Ultra, Super, Common, Ultra, Spielitz, Ultra, Super, Common, Remote, Control, c'erò per due, anche l'altro ultimato qua abbiamo un dragon ox in inglese un atene e due chizan buono se vi serve qualcosa chiedete non scambio assolutamente le ghost e boh o poi chiedete se vi serve l'arcidemone 2.0 di pensieri lo devo già dare a gabbo 2000 per un odino cronato ultimato buon e io vi lascio ragazzi ciao